buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo corso per lo sviluppo java di applicazioni android spieghiamo le applicazioni android perché abbiamo notato che in questi ultimi anni la programmazione android si sia molto diffusa soprattutto perché open source ed è la principale l'antagonista della della apple per sviluppare android come primo corso in questa prima lezione vi facciamo vedere come si può come è necessario configurarlo innanzitutto è necessario scaricarsi eclipse eclipse ora vi risparmiamo come funziona lo scaricamento di eclipse ricordiamo che bisogna andare nel sito della casa madre di eclipse e scaricare la piattaforma j2i perché comunque se voi andate a vedere la nostra prima video ripetizioni sulle web application avete tutto nel dettaglio come come si scarica eclipse ricordo che è la piattaforma di sviluppo java non solo per naturalmente per android ma per qualsiasi per qualsiasi applicazione come può essere con applicazioni java di web application strats spring eccetera dopo eclipse è necessario scaricarsi un altro paio di componenti il primo è lsdk di android quindi scriviamo su google sdk android veniamo come prima vediamo come primo link quello relativo alla pagina ufficiale di android e e clicchiamo su use an existing id cioè usa un un ambiente di sviluppo esistente clicchiamo su download dsdk per windows perché noi abbiamo windows accettiamo i parametri e clicchiamo download a questo punto ci parte il download e vediamo che questo download è di 74,2 mega ora noi stoppiamo questo scaricamento perché ne abbiamo già scaricato per guadagnare tempo detto ciò quindi andiamo sul file installer di windows per la nostra sdk che l'abbiamo scaricato dentro ci e clicchiamo su installer sul nostro installer e facciamo partire l'installazione a questo punto il file di installazione estrarrà il nostro sdk e partirà automaticamente la richiesta di installazione andiamo avanti installiamo tutto su come dice come ci suggerisce il programma di installazione e facciamo partire l'installazione di tutti i componenti sdk fra questi componenti è presente l'avd android virtual device cos'è l'android virtual device l'android virtual device è un software che emula un dispositivo android quindi a questo punto abbiamo finito facciamo start sdk manager questo ci serve perché ci evita ogni volta di dover installare la nostra applicazione di prova sul cellulare android quindi ci permette di essere più veloci nella programmazione android ora abbiamo avviato il nostro android sdk e come vediamo il nostro android sdk per windows ci suggerisce un elenco di librerie da installare per il nostro eclipse nel nostro caso selezioniamo ad esempio la versione di android 2.3.3 anche se attualmente per esempio il galaxy s3 possiede l'android 4.0.3 però diciamo a scopo didattico sicuramente per imparare soprattutto i primi tempi è necessario utilizzare la versione di android meno recente che è la 2.3.3 che comunque è installata sulla maggior parte dei cellulari android le altre versioni android 3.0, android 3.1, 3.2 sono versioni invece utilizzate nei tablet ora noi abbiamo selezionato android 2.3 e vogliamo installare dell'android 2.3 non tutto ma solamente la nostra google api le nostre google api e in più vogliamo installare la nostra piattaforma a questo punto clicchiamo install accettiamo la licenza e partirà l'installazione delle librerie di android delle api di android questa operazione richiederà alcuni minuti quindi ci rivediamo tra qualche secondo bene abbiamo installato quindi sia le google api nella versione 10 per quanto riguarda le librerie di android e sia la nostra piattaforma di emulazione a questo punto possiamo chiudere il programma di sdk per scaricarci le piattaforme e andiamo ad aprire eclipse clicchiamo eclipse ci si apre il nostro ultimo eclipse eclipse giuno attendiamo qualche istante e dentro eclipse noi dobbiamo installare il plugin per per creare applicazioni android per scaricarci il nostro android development tool dobbiamo quindi andare su windows scusate su help facciamo install new software e dobbiamo come detto selezionare il link la pagina web da cui scaricare il plugin per selezionare la pagina web da cui scaricare il plugin facciamo cancel perchè altrimenti non ci fa lavorare il nostro pc e clicchiamo su google e clicchiamo android plugin link adt il primo link che ci viene è quello della pagina di scaricamento del plugin android development tool clicchiamo su installing the eclipse plugin e selezioniamo appunto questo link copiamo e incolliamo andiamo su help install new software e incolliamo questo link come vedete eclipse già ci riconosce che questo link ci può permettere di installare i seguenti plugin installiamoli tutti e facciamo next a questo punto eclipse installerà il plugin e la configurazione ci chiederà di accettare si è fatto il download del plugin e adesso ci chiede di installarlo quindi dobbiamo accettare le condizioni del contratto facciamo finish e come vedete eclipse installerà il software con l'android development tool noi abbiamo praticamente finito la configurazione di eclipse resta un'ultima cosa da fare ossia collegare l'android development tool alla nostra virtual device questi warning non ci fate caso non sono niente di particolare continuate e fate ok aspettiamo un istante che viene installato il nostro android development tool eclipse ci chiede il restart ogni volta che si installa la plugin eclipse richiede sempre il restart dell'applicazione aspettiamo che eclipse viene riavviato nuovamente e una volta come detto scaricato l'android development tool dobbiamo collegarlo alla nostra sdk di android che è quella che abbiamo scaricato in precedenza per collegarlo a quello aspettiamo un attimo ecco che è partito il nostro eclipse noi dobbiamo andare su windows preferences e selezionare android a questo punto come vedete già in automatico il percorso della nostra sdk diciamo che android ha trovato già automaticamente il percorso della nostra sdk quindi non dobbiamo modificare nulla questo è un parametro molto importante altrimenti non funziona la nostra virtual device detto questo abbiamo finito di di far vedere quali sono i programmi necessari per sviluppare android e nella prossima lezione iniziamo con il primo progetto android io io per il momento vi saluto e vi invito sempre a visitare il nostro sito che vedete di seguito ogni video che viene fatto noi faremo una pubblicazione di un articolo lo pubblicheremo in prima pagina sul sito e in più potete vedere nel nostro sito nelle materie tutto l'archivio dei nostri video vi invito inoltre a visitare il nostro canale youtube che è video ripetizioni detto ciò io vi saluto e vi rimando alla prossima lezione su android a